Lei come la vede questa cosa che potrebbe crearsi, questa strategia? Guardi, la vedo in maniera molto pragmatica, sono occupato e impegnato su altri fronti, dobbiamo concludere la Pelle Montana, dobbiamo portare avanti l'acquedotto da 80 milioni di euro che porta acqua pulita alle zone dei FAS, dobbiamo occuparci dell'occupazione, abbiamo la partita di far ripartire la TAP dopo 14 mesi di attesa, le grandi navi e molto altro ancora, potrei andare avanti all'infinito, per cui ho ben altro da cui pensare che far più a distrarmi con le elezioni ragionali. Senta, ormai anche Zingaretti appena ha parlato con Mattarella, si al Conte B si va verso quella soluzione, è quello che non si doveva delineare secondo lei? Guardi, mi sembra chiaro che se questo accadrà l'Italia sarà governata da chi ha perso le elezioni, penso che sia l'unico paese al mondo dove chi perde le elezioni addirittura l'opportunità di governare un paese, è qualcosa che grida vendetta, ma guardi poi come diceva Manzoni nel 5 maggio, poi i posteri e i posteri dà ardua sentenza, immagino che poi ci diranno in questa nuova alleanza PT 5 Stelle, ci diranno cosa vorranno fare della TAV, cosa vorranno fare delle grandi navi, cosa vorranno fare delle grandi opere, l'autonomia è altra partita importante, ricordo che il PT ha fatto di tutto per non farci fare il referendum, ci ha mandato in tribunale, in corte costituzionale, ci siamo rimasti 15, anzi scusi 13 mesi, poi abbiamo vinto a noi e ci hanno vietato l'uso della tessera elettorale durante il referendum, sempre il PT ha promosso ricorsi al TAR contro il nostro referendum, è sempre il PT, insomma non è mai arrivato a una conclusione, quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle, il festival dell'incoerenza.